Senatrice Sbrollini, è stato approvato il provvedimento sport in Costituzione. Quanto è importante proprio per lo sport? È molto importante perché viene sancito il diritto allo sport, quindi un diritto universale accanto al diritto alla salute e al diritto allo studio. Un diritto universale che significa davvero uno strumento che abbatte le differenze, che contrasta le dipendenze, ma anche un farmaco potentissimo, penso alla prevenzione nella salute, una corretta alimentazione, stili di vita, benessere, ma anche un volano per l'economia dal punto di vista culturale e anche di inclusione sociale. È un grande simbolo di pace, come abbiamo visto in questi giorni con gli atleti ucraini. Oppure ancora possiamo affermare l'importanza di approvare questo provvedimento, significa anche aprire la strada al professionismo femminile, speriamo prima possibile, e ad altri provvedimenti che riguardano lo sport. Lo sport non ha confini, non ha controindicazioni e abbraccia tutte le generazioni. Fa bene ai bambini, agli adulti, agli anziani, alle persone con disabilità, con fragilità, ma soprattutto deve diventare appunto un diritto di tutti e per tutti.